Ciao ragazzi, allora sono qua ad Alassio, la mia casa e sono qua con due ospiti d'eccezione Il primo è Antonio Conte, un saluto a tutti, sono venuto qua in vacanza, visto che non devo più allenare quindi sto qua, è una spiaggia da 100 euro questa assolutamente, non da 10, quindi si sta benissimo E l'altro amico, aspetta che lo chiamo, buonasera a tu, buongiorno, buonasera, sono a Sian Allegri mi sto rilassando prima dell'inizio del campionato con un amico, tra poco si comincia quindi bisogna ricaricare le batterie Un saluto da Ciughina, ciao